Salutiamo il nostro ospite di oggi, l'assessore regionale alla ricerca e all'università, Monica Barni. Benvenuta, buongiorno Regione. Grazie, buongiorno a voi. Una bella patata bollente da gestire in questo periodo, i nuovi indicatori patrimoniali ISEE. Il governo ha corretto i limiti patrimoniali e quindi stanno cambiando un po' le situazioni anche nel mondo universitario. E questo ha acceso una certa protesta e non solo in Toscana. Perché il governo ha fatto questo intervento? Il governo ha aggiunto un nuovo parametro che è un parametro patrimoniale, cioè ha dato maggior peso alla condizione patrimoniale delle famiglie per vedere, per cercare di captare quelle situazioni di evasione fiscale. C'è evasione fiscale, un po' di furbetti anche che giocano su questo? È probabile che ci siano, sì. Ecco, i dati toscani cosa ci dicono? Quanti studenti sono esclusi o rischiano di non avere accesso a un sostegno finanziario? Ci sono diversi studenti che non hanno accesso al sostegno finanziario, non hanno accesso alle borse di studio. Rispetto all'anno passato, che però è stato un anno eccezionale perché la regione toscana aveva bandito due volte il bando per le borse, hanno perso, non sono più idonei circa 2000 studenti, ma rispetto al dato di due anni fa, gli idonei sono calati molto di meno. Ecco, sono esclusi soltanto, diciamo, a questo punto rispetto all'anno scorso, un migliaio di studenti. Un migliaio di studenti. E noi li abbiamo incontrati, alcune voci, con Alessandra Parrini, i loro dubbi, le loro proteste, le loro richieste. Vediamo. Problemi per l'ISEE ne ha avuti per l'escrizione all'università? Giusto qualcuno, perché abbiamo fatto la domanda e ci è voluto parecchio tempo per ricevere il documento dell'ISEE e rischiavamo appunto di superare le tempistiche dell'immatricolazione, questo sì, però in realtà poi non è stato questo gran svantaggio. Io ho la sfortuna di avere il padre disoccupato, di conseguenza non pago tanto di tasse universitarie. Quindi in questo caso lei si sente tutelata? Sì, perché non trovo eccessivo il costo delle tasse. In pratica è un'analisi completa su il reddito, ma forse anche troppo esagerata. Ma si è accorto che rispetto, diciamo, alle tasse lei ha pagato di più? Sì, rispetto all'altro anno mi pare di sì. La protesta degli studenti universitari per il delitto allo studio non garantito a tutti e con 4.000 richieste di borse di studio in meno in Toscana a causa dei nuovi calcoli e fasce ISEE è arrivata anche al Presidente della Repubblica, Mattarella, a Pisa e a Firenze con striscioni e cortei di protesta. La questione è complessa e nazionale rispetto all'ISEE, ma anche regionale rispetto ad alloggi, borse di studio e altri sostegni economici con graduatorie ancora non definitive. Anche i ragazzi del mio corso dicono la stessa cosa, hanno fatto domanda per l'alloggio e non sanno quando devono traslocare o se è definitiva come graduatoria, se è sicura che hanno l'appartamento, non lo sanno. Abbiamo dovuto dichiarare più cose, quindi è salita penso un po' per tutti. La borsa di studio, l'alloggio è una grossa opportunità per lo studente, ecco, magari c'è da migliorarlo, però non c'è da stravolgerlo, ecco. Ha sentito le richieste, Assessore, un po' tante posizioni differenziate chiaramente. Ecco, lei è molto attiva anche alla conferenza Stato-Regioni, si sta valutando la situazione, che tipo di panorama sta emergendo. A che tipi di correttivi si sta pensando per andare almeno parzialmente incontro alle richieste degli studenti? Beh, al Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca è stato istituito un tavolo che si riunirà periodicamente con l'obiettivo di dare delle risposte entro il mese di novembre. Al tavolo partecipo io come coordinatore della conferenza Stato-Regioni, c'è il capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca. E su che cosa state lavorando? Stiamo lavorando, stiamo lavorando, prima di tutto sull'analisi dei dati. Vogliamo capire che cosa è successo. Vogliamo capire chi sono gli esclusi, chi è entrato, perché dobbiamo considerare che poi sono entrati altri studenti che magari l'anno scorso, l'anno passato, non avevano diritto. Quali correttivi eventualmente porre a questa situazione? La Regione Toscana ad esempio ha alzato... La Regione Toscana ha fatto una scelta molto intelligente, cioè quella di alzare la soglia ISEE da 19.000 a 20.000 euro. Questo ha permesso a 331 studenti in più di accedere al diritto allo studio. Questo potrebbe essere uno dei correttivi. Un altro correttivo potrebbe essere invece quello di innalzare la soglia dell'ISP, cioè dell'Indice Patrimoniale. Ma stiamo appunto analizzando tutti i dati. Io ho portato dei dati della Toscana. Naturalmente questi dati della Toscana costituiscono un elemento guida per l'analisi che si sta conducendo per tutti i dati italiani. Ricordiamo che la Regione Toscana gestisce proprio l'azienda regionale per il diritto allo studio dei tre Atenei di Firenze, Siena e Pisa. Il FIS, il Fondo Nazionale garantisce una ventina di milioni di risorse, una decina ce le mette la Regione. Mi spiegava prima che la Regione Toscana è la seconda in Italia per impegno economico. Detto questo, lei che tipo di impegno si sente di prendere con anche i ragazzi che abbiamo sentito? Faccio una promessa di una scadenza temporale. La scadenza temporale è quella che io incontrerò i rappresentanti il 28 di ottobre per discutere insieme a loro e eventualmente cercare qualche correttivo dei servizi che la Regione Toscana si impegnerà a offrire a questi studenti che hanno perso la borsa di studio e alcuni di loro hanno perso l'alloggio. Grazie, ringraziamo l'assessore regionale alla ricerca e all'Università Monica Barni e ringraziamo voi per le segnalazioni che arrivano alle nostre caselle di posta elettronica. Segnalateci le notizie, le storie, i problemi, le cose che non funzionano da approfondire nelle nostre edizioni di Buongiorno Regione del telegiornale. Vi ricordo le mail buongiornoregione.toscana-rai.it e tgr.toscana-rai.it E adesso, assessore, la invito a vedere il prossimo servizio.